Fabio Fannuli, oggi libero titolare in questa Sirzafe di Perugia che continua a vincere, magari superando difficoltà di ogni genere, ma è sempre importante trovare tre punti. Certo, questo è sicuro. Questa sera abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che in questo campionato non puoi approcciare la partita abbassando la guardia perché perdi subito contro qualsiasi avversario. Detto questo siamo stati bravi a riprendere la partita e a portare a casa i tre punti. Una partita che chiaramente ha avuto un grande protagonista in seconda linea come te e un grande protagonista di attacco con Fromm. Adesso a spanne non saprei dirti perché bisogna prima vedere i numeri e rivedere la partita, però abbiamo dato un'altra dimostrazione che questo gruppo lavora molto bene e che chi entra in campo riesce a dare sempre il massimo per la squadra e per il risultato finale. Anche oggi ci è voluto di aggiustare un po' il tiro. Non funzionava qualcosa nei schiacciatori. È entrato come al solito Capitan Bujevic. Che dire di un capitano che dimostra sempre di non avere età? Ma che dire? Penso che non ci sia niente da dire. Bisogna soltanto togliere il cappello e guardare in campo quello che fa perché basta quello. E se fino adesso la Sir ha dovuto tirare il cappello là dove non arrivava, c'è da stringere ancora di più i denti perché il prossimo avversario si chiama Treia? Beh sì, è una sfida molto stimolante penso per noi. Sicuramente andremo lì per giocare la nostra partita cercando di recuperare magari qualche acciacco fisico perché ci sta un po' creando qualche difficoltà soprattutto nel lavoro in settimana. Andiamo lì cercando di giocare al meglio e di divertirci.